Ho trovato la regina, sì, 5 domande in 30 secondi Vai, veloce Vai, via Allora, come si crafta la sella? Non si può craftare Poi Bravo Ehm... A casa non serve... A cosa non serve a Redstone? A fare i marchi in geni? A fare la bussola? A fare l'armatura di Redstone? A fare l'armatura di Redstone? Ok, due Poi, eh... Come si chiama la 1.9? Aesthetics update, the technology update, the frostborn update, the combat update The combat update, perché hanno aggiunto spade e scudo Le cose del combat Dai, altre due Ehm... Nella 1.10, gli aschi prendono fuoco, non prendono fuoco, droppano diamanti, fanno 5 cuori di danno Ah... Qua c'è? E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Kingdoms E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Simone, Angela, Mukkakadi, Antonio, Luca e Gabriele Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E a grande richiesta siamo tornati su Kingdoms Il primo video vi è piaciuto davvero tantissimo Ci avete chiesto in tantissimi di fare un altro video su questo gioco Ed eccoci qua Esatto, però quest'oggi sarà decisamente più difficile perché andremo a fare un quiz su Minecraft E diciamo che non siamo proprio gli esperti assoluti No, allora, io mi addisco il po' voglio dire che ci sono delle domande davvero davvero difficili È difficile ricordarsi tutto Ma ci proveremo Comunque, prima di iniziare quello su Minecraft Vogliamo, prima di tutto, ringraziarvi per l'attività sul nostro canale Two players one console Esattamente ragazzi, ci avete seguito in tantissimi Allora, siamo arrivati a 79 follower Che è già tantissimo E siamo arrivati a 73 domande Perché ci avete fatto un sacco di domande Avete proposto un sacco di domande Le abbiamo accettate più che volentieri Ci hanno fatto sorridere Quindi prima di fare il quiz su Minecraft Italia Andremo a fare al volo un quiz su two players one console Almeno su questo Penso che saremmo preparati, no? Spero che riuscirò a farti un 5 a 0 secco Così vediamo giusto le domande insieme Dai, giusto Guarda, giuro che se sbaglio me ne vado Ti devi licenziare, no? Ti devi licenziare Devi abbandonare il canale Io te lo dico Allora, gioca adesso Amici, anche se tu non sei una mia amica Ci tengo a precisarla questa cosa Sì, siamo nemici Come si dice? Nemici forever Noi diciamo Esatto Allora Ah, comunque ragazzi Ci intengo anche a scusarmi Perché da quando abbiamo fatto il video Mi avete mandato un sacco di richieste A Veronica un po' meno Perché ovviamente non tutti l'avete trovata Non avendo visto il suo profilo No, però me ne hanno mandate anche diverse Diverse Io ho cercato di accettarle il più possibile Purtroppo le vite sono limitate Quindi alcune ci metto un po' di giorni Prima di accettarle Io mi sono trovato con tre vite E 50 richieste di partite Quindi come potete immaginare Non potevo giocare con tutti Ho cercato di giocare con almeno Ognuno di voi una volta Purtroppo non ce l'ho fatta Comunque in ogni caso Continuerò a cercare di giocare Anche perché è divertentissimo Nel mese di luglio Hanno raggiunto i 6.000 iscritti Circa 78.000 Magari 788 E 8.000 iscritti Non lo so No come? Nel mese di luglio È finito avanti 8.000 8.000 Per forza Abbiamo fatto gli 8.000 Proprio il 31 luglio Mi sa quindi abbiamo proprio chiuso il luglio Per di più ragazzi Il primo agosto abbiamo compiuto Tu continui a parlare Ma lì ti scade il tempo Mi dimentico che c'è il tempo Dicevo In ogni caso Il primo agosto Quindi ieri Abbiamo compiuto 6 mesi Dato che il primo febbraio Abbiamo aperto il canale E abbiamo chiuso appunto I primi 6 mesi Con 8.000 iscritti Che è una cosa davvero incredibile Ci tenevo a dirlo Metà anno di canale Metà anno Esatto Metà anno Che strano Bellissimo C'è volato il tempo Volato Vai Prossima domanda Quanti sono gli adesivi O rologio Che si vedono alle spalle Di Steph e Ferinichi Durante i video Allora su questa cosa Praticamente cosa è successo Sono adesivi E si sono staccati Con il vento In questo periodo Quindi eravamo arrivati Ad averne solo uno Ma sì Normalmente sono 4 E li abbiamo riattaccati In questi giorni No li ho riattaccati io ieri Finalmente abbiamo comprato L'Attac Perché ho provato Diversi tipi di colla Vorrei dirlo Finché non mi sono rotta le scatole Perché cascavano ogni giorno E alla fine li ho attaccati Al muro con l'Attac Ho detto La prossima volta che vengono giù Deve venire giù anche il muro Te lo dico Guarda Speriamo di no Mi hanno stancato Ci hanno imbrogliato Cioè non si attaccano Ci hanno imbrogliato nel negozio Allora Prossima domanda Di che colore è la parrucca Usata da Steph Per interpretare il personaggio Gina la scienziata Ovviamente blu Che poi in un altro video Ne hai usato una rossa Ne abbiamo anche una bionda Ragazzi Abbiamo un sacco di parrucche Però le usiamo poco Dovremo usarle di più le parrucche Comunque dobbiamo anche far vedere Di chi sono gli autori In questo caso di Only Revenge Il veterano Cerchiamo di farle notare D'ora in poi Ho trovato il primo re Allora Come si chiamano realmente Non lo so No davvero non lo so Perché c'è sia Sergio e Veronica Sia Stefano e Veronica Quindi quale mi hanno messo Come ti sei presentato nel canale Perché tu hai due nomi Stefano e Veronica Sì però nel vlog abbiamo appunto detto Che Stefano è il mio primo nome Quindi Stefano Stefano e Veronica Eh non lo so Sergio e Veronica Ok No no era giusto Sergio e Veronica Ma davvero? Sì E sei tu che gli hai confusi Con i tuoi 2000 nomi È colpa tua Io ne ho uno Comunque Non potete sbagliare Consolino Alepintus2002 Salutiamo anche a lui Ringraziamo tutti quelli Che ci hanno fatto le domande Perché davvero ragazzi È una cosa carinissima Vabbè Quelli di prima Tanto si vedono Quindi prendetelo come un saluto Scusate se ci rendiamo sempre Con il ritardo delle cose Re al primo colpo Ma anche un re Sì Su quali di questi giochi Non hanno mai fatto un video Clash of Clans League of Legends GTA 5 Minecraft Clash of Clans Bravo Ovviamente Meno male che lo sa Ho trovato Albert Quindi Stefano e con la sua domanda Ci indica due scatole Ok vai 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 Quando hanno raggiunto I mille iscritti Questa è tosta Dimmi le date Non me la ricordo Primo febbraio Apertura del canale Quindi no 15 luglio No perché è troppo tardi 24 maggio 29 settembre Ok 24 maggio 24 maggio per fortuna Per fortuna Stavo spaventando Io ho problemi a ricordare le date Anche io Cose di numeri davvero Potrebbe essere il modo migliore Per sbagliarne almeno una A Ferenichi e Stef No scusami Sì A Ferenichi e Stef Amano rispondere ai loro fan No Sì Si divertono a leggere e rispondere Cuoricino No per niente Adorano a leggere i commenti E basta Questa è carinissima Cuoricino Ventiamo tantissimi i cuoricini E fateci il cuoricino E certo Ci divertiamo Fatta da Letizia Commetti Brava Letizia Certo I cuoricini Soprattutto a Letizia Ne facciamo tantissimo Ma tutti Perché sono belli i cuoricini Vai 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 Non puoi vincere più di tre corone Al primo turno Adesso tocca al tuo avversario Non lo sapevo questa cosa Così può fare 5 a 0 Ma forse l'hanno aggiunta Non lo sapevo Guarda che io sono quasi sicura Che un certo ecodetto Ho battuto 5 a 0 A questa mi indica la strada Tito mi indica la strada Ok Ferenichi ama La pace I dolci vestiti tutti I dolci I dolci ovviamente La mia cosa preferita in assoluto Vai re 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 Dai Sei dimenticata di salutare Chi ha fatto la domanda Brava Scusami Brava Era una domanda carinissima E si è dimenticata Da quanto sono fidanzati Due anni Un anno Sei mesi Tre anni Aia Tre anni Quasi quattro Però sono tre Dai Sono tre ancora Allora su Instagram Steph si chiama Steph non è su Instagram Ciu palito Steph 2317 Ciu palito Sì e ci tengo a precisare Che l'ho appena cambiato In Steph il magnifico Ma non seguitemi Perché non lo uso Mi dimentico Sempre di Giulia Oliver Giulia Oliver Perfetto Ok Sì anch'io vabbè Già è difficile usare Quello in due Peratevi quello privato Non lo usiamo praticamente mai Perché me sta facendo fare Tutte queste corone Non lo so Sono molto arrabbiato In quanto tempo hanno raggiunto I mille iscritti Quattro mesi È vero? Tre mesi Tre mesi Ok Ho fatto il re? Sì adesso Adesso Quindi ho vinto Come si chiamano realmente Di dopo quella di prima E magari questa volta è Stefano Sergio e Veronica Stefano e Veronica Giorgio e Lucrezia Luca e Michela Giorgio e Lucrezia Luca e Michela Lucrezia sembra un bel nome Sì è vero Sergio e Veronica Meglio di Veronica Non ci provare Questa è fatta da Ale Pintus Perfetto Finito È carinissimo Ragazzi comunque Se volete ci potete fare Sempre altre domande Ovviamente se sono giuste Le accettiamo Esatto Non è il caso di mettere Domande sbagliate È il nostro canale qui Quindi adesso Su cosa ci sfidiamo? Ora ci sfidiamo Avamo detto Minecraft Eh ma siamo sicuri? Abbiamo il coraggio di farlo Dai sì Ok Sì dai Tanto ti batto sempre Su Minecraft Vi faccio vedere anche Che in questo momento C'è una partita in corso Tra me e Veronica Dove siamo 1 a 4 per lei Su Minecraft Adesso ci farei Però sta avendo fortuna Una figuraccia Sbaglio tutto Lo spero Perché se mi batti Anche adesso Non è giusto Allora Canale singolo Amici Devo selezionare A te E poi Minecraft La grande Ferinichi Vai Io ho paura Io davvero ho paura Che finirà malissimo Minecraft Italia 451 domande diverse Allora Devo trovare un re subito E l'ho trovato Grazie Grazie Non è possibile questa cosa Vai Allora Vai Quanti diamanti ci vogliono Per crashare Un'intera armatura Ragazzi Ferinichi non la sa Ho capito sempre 24 Sì Vero Sì Sì La sapevo Vedi Se io non la sapevo Me l'avevi detta Ma la sai questa Perché questa me l'hai spiegata tu Esatto No il fatto è che non mi ricordo mai A livello di numeri Però sì Questa furia di fare il quiz Me l'ho memorizzata Vai Quali e quanto sono gli spawner Già creati nell'overworld Vedete Queste sono di quelle cose Che io non so mai Tipo Dimeli 2 Scheletri e ragni 4 Zombie Silverfish Scheletri e ragni 2 Zombie e scheletri 3 Zombie Ragni e scheletri È difficilissima 3 4 Vai vai metto con me Io ne metterò in me Guarda la pubblicità Quali tra questi cibi Non esiste su Minecraft Vanilla Vai Carota Biscotto Torta Cipolla Io lo so Allora la torta esiste La carota esiste Biscotto Cipolla La cipolla È sempre la cipolla Vai 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 Allora Cosa succede se si mette L'armatura di pelle colorata Nel calderone Il colore diventa bianco L'armatura si distrugge L'armatura perde il colore Niente Allora Pelle colorata nel calderone Si distrugge No Non ho mai provato Una cosa del genere Però sono interessanti Niente Cavolo Perde il colore Perde il colore Vero Memorizza Memorizza Io avrei detto quello Perché in effetti Pensaci Se magari tu ti colori La tua armatura in pelle E cambi idea E non la vuoi più colorata Ci deve essere un modo per cambiarlo E quindi ho pensato Ma io ho pensato Cambi direttamente Smettila Mi stanno portando felicità Fratello di noce Di stiva Aveva ragione Mi ricordavo infatti Che fosse il fratello di noce Però lo sbagliassi Questo lo ricordavo Non ho trovato il re Cioè ho trovato addirittura Tina Quando manca solo una cassa Ma non mi sa Che sbagli adesso Quanti diamanti ci vogliono Per craftare un'intera armatura 24 diamanti Questa la so Una domanda difficile adesso Una domanda difficile adesso Allora non si vince portando sfiga agli altri Si che si vince così Battendoli sullo stesso piano Qual è la pecora più rara da vedere su Minecraft? Rosa, verde, bianca, marrone? È facilissimo Rosa? È facilissimo Rosa? Rosa! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Io non vorrei vedere la pecora rosa Io non l'ho mai vista Però so appunto che è rarissima da vedere Allora andiamo avanti Uno pari quindi? Sì, uno pari Uno pari Dalla 1.9 Il fieno Blocco È diventato più bello Riduce i danni della caduta È commestibile Fa crescere i cavalli più velocemente Bella domanda Io non l'ho visto nella 1.9 Un blocco di fieno Io ho una teoria Riduce i danni della caduta Cioè Da che mondo è mondo Anche nei film Quando ti lanci c'è il fieno Che ti riduce i danni E infatti è questa Per logica Mi sembrava una cosa figa da aggiungere Quindi Cos'hanno in comune i golem di ferro e i villager? Le dimensioni Il colore Il naso Il suono Il naso Secondo me Esatto Ho pensato al golem di ferro e i villager hanno un naso uguale Se ci fai caso è così È vero Se ci fai caso è così Sì, sì, sì Ho sbagliato Mi ha indicato la strada E non ho preso il re Dimmi dov'è però, grazie Quanti pezzi di legno servono per craftare una scala? Oddio, aspetta L'ho anche fatta la scala Accidenti a me 5, 7, 4, 6 7? No Che stavi facendo? Io ho fatto così? 6 6 Ma non mi ricordo Cioè le ho anche craftate Non riesco a ricordare In realtà avevo fatto 7 E dicendo ti sei mai farti sbagliare Ti ho fatto a zeccare Grazie Il re No, cioè le ho anche craftate le scale Per quanto sono vergognosa Pensaci Anche io non mi ricordavo Vai La testa di Wither Si crafta Non si può craftare Con 9 ragnatele Con 3 fili E 4 di ossidiana Con 1 di ossidiana Non lo so Facile, no? Aiuto Non si può craftare Boh Chissà Non si può craftare Cavolo Mi sembrava Era la cosa più probabile Esatto, esatto Non ho mai craftato un golem di ferro Ma qui ho 48 65 36 Ah Non lo sapevo Tocca a te Comunque era 3 E io me lo ricordavo Allora Dove si trova il koala? Neve Non esiste Savana, giungla Non esiste Non esiste il koala Pareggia Hai fatto tutto tu Molo fino a pareggiato Prossima domanda La mela si crafta Mela e blocchi di oro Non si può craftare Non si può craftare la mela Neanche le leggo tutte Solo la mela dorata si crafta Allora Andiamo qua Neanche Uffa Voglio un altro re Come si crafta un mob spawner Non è craftabile Eh Ok Subito Se ecco Hai visto Sono un esperto Ok Ho ritrovato Albert Oggi trovo solo Albert Cosa rilascia? Un creeper Si è ucciso da uno scheletro Ah Questa mi era già capitata Un disco Un disco era Si 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 Dovremmo farla Questa cosa è stranissima Dovremmo provarla Si 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 E trova il re signori Può andare in vantaggio a 3 a 2 Allora Come si chiama Il nuovo oggetto Che ti dà la possibilità di volare Tra parentesi Planare sul mondo di Minecraft Tu questo non lo sai Allora Jetpack Volatilizzatore Flychange Elytra Jetpack Elytra Elytra Si Bello Ma è nuovo questo Nella 1.9 È il mantello che ti fa planare Non li ho provati ancora Tutte le cose della 1.9 Non so Non mi ricordo come si crafta Però almeno il nome me lo ricordo Allora Continuo Continuo Vediamo un pochettino Cosa succede se un fulmine cade su un maiale Ah la so La so La so Diventa un pigman Sì Ok Esatto Meno male che mi ricordavo Poi Ho trovato la regina Sì 5 domande in 30 secondi Vai Veloce Vai Via Allora Come si crafta la sella Non si può craftare Poi Bravo A casa non serve A cosa non serve a Redstone A fare i marchi in geni A fare la bussola A fare l'armatura di Redstone A fare l'armatura di Redstone Ok Due Poi Come si chiama la 1.9 Estetica update The technology update The frostborn update The combat update The combat update Perché hanno aggiunto spade scudo Le cose del combat Dai altre due Nella 1.10 Gli ask prendono fuoco Non prendono fuoco Droppano diamanti Fanno 5 cuori di danno Veloce Non prendono fuoco Sì Ho 7 secondi per l'ultima Vai Vai Veloce Allora Con cosa è fatto il portale del nether Ossidiana Lamite Terra Legno Ossidiana Sì Ce l'ho fatta Sono difficili A me sai cosa succede con la regina Mi prende l'ansia e le sbaglio Perché mi fa venire ansia Il fatto di doverne fare 5 in 30 secondi Sto sudando Non ci credo È stato difficilissimo Vai 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 5 domande in 27 secondi E ti dà la corona giusto Sì 4 corone Ora posso trovare il re Dai No Uffa Potrei concludere questa sfida Allora Come si prende l'uovo del hand Con la torcia Col pendolo Con l'acqua Col pistone Secondo me col pistone Infatti Ok Non la sapevo Ti dico la verità Non la sapevo Poi Si sta capendo chi è il vero esperto Ma stai zitto Quanti lingotti di ferro servono per craftare l'incudine Vedi questa è una cosa che non ricordo mai Aspetta 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 Mi è anche già capitata ci credi Cioè non riesco a ricordarmela È tosto da craftare Ne servono tanti ma non mi ricordo mai quanti 28 Quanto? 31 3 Dai dai questa la devo indovinare Minecraft è un cartone animato Niente un sandbox Una bugia Ma non è giusto Un sandbox Cioè per Una bugia Una bugia Niente Minecraft non esiste in realtà Minecraft non esiste Capito Trova il re A 4 È alla domanda più facile di tutte Vai 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 Trovami almeno Vampiro Come si chiama il protagonista femmina del famoso gioco di Minecraft? Alex E ti rubo la corona No non li penso che ne altri due cara Ah no Quali poteri ha il ragno? Trasforma i maieli in ragni Non fa niente Vola per la mappa E non si può attaccare Scala ai muri Scala ai muri Non basta Ma il ragno è normale? Il ragno? No non fa niente il ragno è normale Non fa niente Yeah ha sbagliato Ma quando scala ai muri? Sempre Non c'è niente che il ragno se va su una cosa Lei inizia a scalare? No Non l'hai mai visto scalare il muro? Io uccido prima Cioè 2, 3, 6, 4 Ma chi la usa una zappa di diamante per combattere? Chi è che la usa? E poi soprattutto per far danno Cioè già la zappa di diamante inutile Poi per combattere 3 2 2 addirittura? Avrei detto 3 Sono arrabbiatissima Dai 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 Questa domanda mi dà la senza di vincere Vedi il gioco non vuole che tu vinca In quale versione hanno aggiunto i fossili? Perché questa domanda? 1.10 Ok Non mi ricordavo dei fossili Quindi doveva per forza essere Io me li ricordavo La 1.10 In modalità survivor Si possono craftare le palle che lanciano i ghast? Aiuto Secondo me la droppa ghast quando muore No invece Si può craftare Hai perso giusto Mi ha perso subito il tuo turno Hai 3 scatole in una delle 3 c'è il 3 Esperto Ah dai che sbagli Allora c'è un processo che differisce fra la versione PC e la PE Qual è? Che cosa vuol dire? Hai già perso Enchant, armature, riparazione oggetti, tintura, distillazione e pozioni Cos'è la PE poi? Le pocket edition Quella per cellulare Ma che cavolo? Nessuno lo uso per il cellulare Se la possiamo fare Dalla 1.9 Questo è facile Il pieno No non ci credo Riduce i danni della caduta Lo sapevi? Perché non so Magari avevi il dubbio Magari non la conoscevi questa cosa Hai vinto 5 a 3 Ho avuto sfortuna E solo per quello ho avuto sfortuna Molta Ok ci vediamo così È stata epica questa sfida Ragazzi ovviamente nei commenti State tranquilli Come abbiamo detto su Minecraft Non sappiamo benissimo tutto Non siamo degli esperti Ma questi quiz li facciamo soltanto per divertirci prevalentemente E anche per imparare comunque qualcosa di nuovo Perché appunto ci sono domande interessanti Che non ti aspetti Comunque fateci sapere se volete altri video di quiz Siamo decisi magari se farlo su Clash Royale O andare magari su qualcosa di più strano Tipo la musica Che non so cosa tutto potrebbe proporre Che è troppo generico Non lo so Vedremo 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 Dobbiamo guardare bene i canali Consigliateci qualcosa E poi decidere Decideremo Ok scusa Mi sono impappinata E prima di finire il video Andiamo ovviamente a salutare gli altri nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Miriam Lorenzo Gloria Amicizia infinita Eric Ed Edoardo Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi il video è felice così Se è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima